Continua l'estate VIP qui al centro commerciale Le Vigne, oggi direttamente dalla popolare trasmissione di Maria De Filippi, ci troviamo con Verdiana. Verdiana non è nuova, diciamo, negli ambienti televisivi, dopo una grande gavetta finalmente è arrivato un bel momento. Come lo stai vivendo? Beh, in maniera molto serena, sono ovviamente contentissima. È un bellissimo momento, è un momento fortunato, un momento dove però bisogna lavorare tanto adesso perché diciamo che, amici, ti dà la grande possibilità di aprire quel portone che magari per un bel po' di tempo è stato molto chiuso. E niente, quindi adesso si lavorerà a sodo per continuare a portare avanti, insomma, quella che è la mia musica. Ecco, cosa si prova ad arrivare ad un soffio dalla vittoria? Beh, diciamo che quando fai i provini per amici speri di entrare e speri di… il mio sogno era quello di riuscire ad avere poi un contratto discografico perché facevo musica da tanto tempo e avevo voglia di poter far arrivare quello che facevo alla gente, no? e quindi il mio sogno l'ho realizzato. Poi la vittoria, se ci fosse stata, insomma, bello, però va benissimo così, sono contenta così, me la son vissuta pienamente fino alla fine, fino al giorno della finale, quindi l'ho vissuta appieno. Oggi tantissimi cercano appunto di approdare nel mondo della televisione chi vuol ballare, chi vuol cantare, recitare, insomma, qual è il consiglio di una ragazza che già ce l'ha fatta e sta attraversando questo bel momento? Vuole dare appunto a chi ancora non è riuscita ad arrivare al top o comunque ad emergere? Ma io consiglio di lavorare sempre sodo, di non mollare, di avere sempre tenacia e di credere nelle proprie idee e in quello che si vuole davvero fare nella vita. Questo è stato il mix di ingredienti che mi ha aiutato a credere sempre in quello che volevo fare e poi alla fine sono riuscita a fare, a iniziare, insomma, nuovamente questo percorso arrivando alla gente in maniera, insomma, forse più semplice, no? Perché io suonavo da sempre, ma ovviamente la popolarità che ti dà la televisione ti aiuta ad arrivare prima, no? E quindi è un percorso un po' più accelerato e quindi non mollare mai. Siamo con Lorella, sempre dalla popolare trasmissione Amici di Maria De Filippi, la passione per il ballo ti ha portato finalmente a raggiungere un importante obiettivo. Raccontaci com'è andata. Sì, io ho iniziato a danza, che ero piccolissima, ho portato avanti la passione anno dopo anno e quindi come non partecipare alla trasmissione più... In voga, diciamo, di questi... Certo, certo. Poi anche per noi ballerini è molto importante perché ti apre tantissime strade. Quindi il provino è andato bene, il programma è andato bene, quindi è stata sicuramente un'esperienza meravigliosa che mi ha fatto crescere umanamente e soprattutto professionalmente. L'approccio con il pubblico, con i fan, come ti senti in questo momento? Certo, sicuramente è diverso, nel senso prima non c'era... Non avevo sicuramente tutto questo pubblico, anche solo fermarti, chiederti una foto, un autografo, è qualcosa che comunque ti fa piacere, è una grande soddisfazione perché vuol dire che qualcosa di importante, di giusto, di bello è arrivato anche alle altre persone e d'altronde era proprio quello che io volevo. Siamo in compagnia di Nicolò, sappiamo che nonostante il successo, quando hai la possibilità ritorni sempre ad aiutare tuo padre dietro il bancone della tua mamma. Sì, quando ho la possibilità, ora un po' meno perché mi sono trasferito a Roma con Roma e Giulietta, quindi tutti i giorni sono là ed è un po' un casino, però quando posso sì, ci vado. Quindi sei rimasto un ragazzo umile, l'umiltà come si suol dire è la vera grandezza. Assolutamente, perché con quella si va avanti. Ecco, raccontaci anche tu qual è stata la tua esperienza, il tuo approccio nella popolare trasmissione di Maria De Filippi. È stata una bellissima esperienza perché ho iniziato a danza guardando amici e riuscire a vincere la categoria ballo per me è un grande sogno, il mio sogno si è realizzato, quindi è stata veramente una bellissima esperienza che ho trascorso insieme ai miei compagni di scuola e è stato veramente bello insieme all'orellita. Qui la vediamo, voi non la vedete, i telespettatori non la vedono e dietro le quinte come si suol dire che cerca di farti ridere, però è impassibile Nicolò davanti alle telecamere. Obiettivi per il futuro? Obiettivi per il futuro? Ora sto facendo Roma e Giulietta, la prima sarà il 2 e il 3 ottobre all'area di Verona, mi hanno dato un ruolo paride, poi ci sarà l'altro contratto in Francia a Bordeaux e tantissime altre cose da scoprire. Allora anche a te Ad Maiora e in grosso in bocca al lupo. Grazie di cuore, crepi il lupo, ciao a tutti, un bacio.